Ci sono alcune precisazioni che dobbiamo fare su quello che abbiamo detto la volta scorsa e approfittiamo anche di questo per ripassare le cose più importanti che abbiamo studiato. La prima cosa è, premettiamo che il diagramma circolare, come di solito ogni modello, opera ovviamente delle semplificazioni, cioè ci sono delle cose che vengono trascurate e altre cose sulle quali si fanno grosse approssimazioni. Se ricordate, il circuito equivalente è composto da un'impedenza statorica, che indichiamo qui con Z con S, così facciamo prima, un'impedenza di magnetizzazione Z con M e un'impedenza rotorica Z con R, chiusa in corto circuito. Noi siamo partiti nello studio del diagramma circolare, nel tracciamento del diagramma circolare, supponendo che la forza elettromotrice indotta E e la caduta di tensione V in qualche modo coincidessero e quindi questo significa che stiamo trascurando la caduta di tensione delta V con S che indichiamo qui, così. Questa è Z con S, delta V con S. Quindi questa qui la mettiamo per il momento tra parentesi per dire guarda, in questa situazione E e V, più o meno coincidono, più o meno, questa qui è un'approssimazione abbastanza importante e abbiamo cominciato a tracciare il diagramma circolare, per cui abbiamo visto che il punto di S uguale a infinito, in questa circostanza qui, capitava qui S uguale a infinito. Nel momento in cui, però, introduciamo le perdite J di statore, allora questa cosa qui non dovrebbe valere più perché qui nelle perdite J di statore c'è proprio la R con S che è un elemento dissipativo e che dissipa le perdite J di statore che è uguale a 3R con S per I con S al quadrato. Allora, ecco perché l'introduzione delle perdite J di statore rimuove parzialmente una delle grosse semplificazioni che abbiamo fatto sull'impedenza statorica Z con S, cioè rimette di nuovo questo elemento che noi, in modo arbitrario, avevamo eliminato. Come conseguenza di questo fatto, il punto S uguale a infinito non verrà a trovarsi più in questo punto qui, ma verrà a trovarsi esattamente qui. Quindi il punto S uguale a infinito è esattamente questo. Ricordatevi, ricordiamoci che quando abbiamo disegnato il diagramma circolare lo abbiamo fatto partendo da quello che succedeva sulla maglia rotorica, cioè su questa maglia qui di rotore. Abbiamo detto che dentro la Z con R, in realtà la Z con R è composta da una R' con R diviso S più una X' con R. Abbiamo fatto variare lo scorrimento S da 0 a infinito. Quindi abbiamo fatto variare questo elemento, cioè l'elemento resistivo, dell'intera impedenza. E abbiamo visto che il valore della corrente nella maglia di rotore percorreva appunto una semicirconferenza. E quindi ora che abbiamo introdotto la caduta di tensione sullo statore, questa semicirconferenza, intera semicirconferenza, è diventata un arco, non è più un'intera semicirconferenza, ma un arco che si estende da questo punto qui, percorre, diciamo, questo percorso qui, e si ferma qui, dove S è appunto uguale a infinito. La potenza sincrona, la potenza sincrona, cioè la potenza che viene trasmessa lungo questa sezione qui, io ora disegno qui, potenza sincrona, potenza che viene trasmessa lungo questa sezione elettrica, P1S, è rintracciabile nei segmenti P, nei segmenti Pd, oppure in un altro segmento che noi possiamo indicare qui per un valore diverso di scorrimento, oppure in un altro segmento che indichiamo qui per un valore altrettanto diverso dello scorrimento, e così via. Nel momento in cui ci troviamo al rotore fermo, cioè su questo punto qui, per S uguale 1, allora è evidente che la potenza sincrona, potenza sincrona per S uguale 1, coincide con le perdite J di rotore, perché non c'è più, lo metto tra parentesi, il termine, potenza meccanica, la potenza meccanica non c'è più, per S uguale 1, e quindi come vedete, il segmento, chiamiamolo P secondo D secondo, qui, collassa, tra virgolette, in un altro segmento che è PCC-DCC, che corrisponde esclusivamente alle perdite J di rotore. non c'è più coppia. La coppia, che era rappresentata allo segmento in rosso, corrispondono alla potenza sincrona oppure alla coppia. Non ricorda che la potenza sincrona è uguale alla coppia C moltiplicato la pulsazione omega, che è la pulsazione delle grandezze statoriche oppure la pulsazione del campo rotante. Quindi, in una scala opportuna, tu, tutti questi segmenti P D, P primo, D primo, P secondo, D secondo, puoi leggerli o come una coppia oppure come la potenza sincrona, tanto la pulsazione omega è sostanzialmente una costante. Per P uguale 1 omega è uguale 314. Quindi, questi segmenti equivalgono alla potenza sincrona. PCC DCC equivale alla potenza sincrona quando S è uguale a 1. ma quando S è uguale a 1 che cosa succede? Che la potenza sincrona che normalmente per S qualsiasi è uguale alla somma delle perdite di rotore e della potenza meccanica, questa volta siccome S è uguale a 1 e il rotore è bloccato, rimangono soltanto le perdite di rotore. quindi per S uguale a 1 noi abbiamo omega con m diciamolo così per S uguale a 1 abbiamo omega con m uguale a 0 non c'è potenza meccanica vedete ho cancellato la potenza meccanica qui sopra so che il puntino non si vede bene la potenza meccanica qua sopra l'ho cancellata per S uguale a 1 e quindi per S uguale a 1 abbiamo la potenza sincrona che corrisponde alle perdite joule di rotore questo non significa che non ci sia coppia perché questo segmento continua a rappresentare sia la potenza sincrona oppure dividendo per omega sia la coppia il segmento PCC DCC rappresenta la coppia al rotore bloccato al rotore fermo oppure all'avviamento se proseguiamo verso destra quindi per valore di scorrimento S maggiore di 1 vedete questo punto qui è un valore di S maggiore di 1 continuiamo ad avere coppia fino ad arrivare a questo punto qui che S dove S è infinito è evidente che questa zona qui è una zona esclusivamente teorica ne stiamo parlando qui ma non è una zona praticata nella realtà quindi diciamo che tutta questa zona qui che va oltre PCC è una zona nella quale le macchine asincrone di solito non vengono fatte per nulla funzionare questa è una zona di funzionamento da freno e quindi la macchina asincrona funziona come un elemento fortemente dissipativo quindi diciamo che ne stiamo parlando qui in termini didattici ma sostanzialmente non è una pratica corrente comunque per S maggiore di 1 continua ad esistere una certa coppia fino al punto in cui S diventa uguale a infinito e voi come vi ricorderete dal disegno della caratteristica elettromeccanica in un diagramma cartesiano per S uguale a infinito la coppia tende a 0 giusto? e quindi ci troviamo esattamente in questa situazione qui durante tutta questa escursione da S che va da 0 fino a S uguale a infinito noi supponiamo abbiamo ipotizzato che le perdite a vuoto cioè il segmentino PCC A con 0 oppure B A oppure BCC AC oppure quello che volete voi anche per S uguale a infinito che è questo non lo so come lo vogliamo chiamare quest'altro segmento qui sia sempre un elemento costante certo anche questo è in un certo qual modo una certa approssimazione perché è evidente che al cambiare del valore della corrente I con S I con S qui sopra al variare del modulo della corrente I con S sicuramente cambierà la caduta di tensione sull'impedenza statorica e quindi questa relazione qui V circa uguale E diventa sempre più debole quindi diventa un'approssimazione sempre più grande e noi abbiamo legato le perdite nel ferro le perdite a vuoto nel ferro proprio al quadrato della forza elettromotrice E vi ricordate che le perdite nel ferro sono uguali a tre volte E proporzionali non uguali proporzionali a tre volte E al quadrato diviso R come l'abbiamo indicato R con zero R con A R con M non mi ricordo più R con zero no R con A R con A cioè la resistenza presente nella Z con M e quindi questa è un'approssimazione che continuiamo a mantenere cioè a supporre che le perdite a vuoto rimangano sostanzialmente costanti al variare dello scorrimento e questa è una cosa che continuiamo a tenercelo quindi come vedete ci sono alcune cose che vengono corrette altre cose che invece visto che insomma implicano una un'approssimazione più blanda continuiamo invece a a tenerle ipotizzate e tenerle così non viene fatta nessuna correzione ci sono domande su queste precisazioni ora proseguiamo con la nostra ecco qua allora giusto per io qui ho fatto rispetto alla volta scorsa la correzione di S ci ho messo una S che qui non c'era la volta scorsa in questa diapositiva vi ho condiviso le diapositive su su Classroom quindi le trovate lì insieme alla registrazione penso che abbiate tutta la possibilità di recuperare tutte le informazioni che vi servono la S anche in questo punto qui mi sembra mancasse bene invece quest'ultima espressione è abbastanza corretta naturalmente tenete conto che qui si parla di B con 2 vi ricordo la dipendenza con il quadrato della tensione di alimentazione quindi questo vuol dire che se di mezzo la tensione di alimentazione la caratteristica elettromeccanica diventa un quarto più piccola rispetto alla caratteristica disegnata qui per un valore di alimentazione che è quello che potrebbe essere per esempio quello della tensione nominale però può anche non essere quello vi ricordo che naturalmente la caratteristica elettromeccanica si estende per S che tende per S che tende a infinito e si estende anche nel terzo quadrante qui mi sembra che l'avevamo disegnata da qualche parte la caratteristica elettromeccanica non me lo ricordo più estesa in tutti i quadranti no non l'avevamo ancora disegnata l'avevamo disegnata a mano giusto? allora ridisegniamola di nuovo cercando sperando di riuscire più o meno in quest'impresa ecco più o meno più o meno è difficile disegnare sulla tavoletta grafica allora coppia C scorrimento S qui qui abbiamo S uguale 0 qui S uguale 1 qui S uguale meno 1 allora abbiamo visto che il punto di normale funzionamento per questa macchina sincrona si trova più o meno in questa zona qui non può trovarsi qui perché è un punto in cui ho il valore massimo della coppia e quindi potrebbe essere un punto di instabilità cioè è un punto in cui mantenere la stabilità è più difficile mettiamola così mentre invece ricordate che S uguale 1 significa asse fermo quindi supponiamo di avere che ne so una coppia resistente che fa così coppia resistente allora questo punto qui risulta essere l'intersezione tra la coppia resistente e la coppia del motore per cui potrei scrivere in questo caso l'equazione di Dallamberti quindi il secondo principio della dinamica è scrivere che il momento di inerzia J attenzione non è l'operatore complesso questo momento di inerzia J per D omega su DT è uguale alla coppia C meno la coppia resistente e allora qui dove la coppia resistente diventa uguale alla coppia C qui nel punto P chiamiamolo punto P questo qui allora nel punto P abbiamo questo termine qui questo termine uguale a zero e quindi abbiamo accelerazione angolare nulla e quindi omega costante questa qui dovremmo indicarla come omega m correggete perché altrimenti omega m qui e omega m qui per evitare confusione con il campo rotante beh allora questo punto P avrà delle coordinate punto P avrà come coordinata appunto C con 1 chiamiamola C con 1 oppure Cp scusa prima la scissa quindi omega omega P virgola e Cp così indichiamo le coordinate di questo punto che è il punto di equilibrio dinamico tra queste due caratteristiche elettromeccaniche vi ricordo che questo punto qui ne abbiamo già accennato la volta scorsa è un punto di equilibrio stabile perché in questa zona qui abbiamo appunto che d omega scusate d coppia motrice cioè dc su d omega e minore m di dc con r su d omega con r è evidente in questo caso particolare che ho disegnato in questo caso qui è una costante perché è una retta orizzontale un segmento orizzontale quindi è una costante questo potrebbe estendersi anche fino a qui ci sono dubbi ragazzi ci sono dubbi no dici perché è negativa è minore qui no cioè tu se la guardi così com'è in funzione di s ti sembrerebbe una derivata la derivata della coppia c motrice della coppia della macchina elettrica sembrerebbe positiva eh cioè tu quando vedi un'inclinazione così dici ah questa ha la derivata positiva giusto quando vedi un'inclinazione orizzontale dici questo è zero allora il positivo è maggiore dello zero però tu qua stiamo ragionando in termini di s e invece qui stiamo ragionando in termini di omega con m e vi ricordo che naturalmente c'è un segno meno di mezzo quindi la derivata della coppia motrice qui in funzione di m dovresti vederla così e quindi è negativa minore di zero qui la derivata della coppia c in funzione di omega è negativa e quindi è sicuramente minore della coppia resistente come derivata e quindi questo qui è un punto di stabilità questo punto qui ad esempio se ne avessi avuto ecco questo punto qui da qui a qui è un punto in cui all'avviamento ho una coppia resistente che è diversa da zero e una coppia motrice che è leggermente maggiore una coppia c leggermente maggiore della coppia resistente la macchina parte perché in questo caso ho questo termine qui all'avviamento maggiore di zero indico questa zona per s uguale a 1 però questa differenza c meno c con r è piccola è molto piccola perché la distanza di questo segmento tra A e B la distanza tra A e B esigua davvero e quindi la macchina parte con grande difficoltà molto lentamente certo una volta che è partita poi mano a mano incontra differenze di coppie sempre più grandi per cui diciamo spunta abbastanza lentamente si dice spunta quando all'avviamento la macchina spunta lentamente però poi dopo insomma recupera il punto P abbastanza velocemente questo fatto qui noi per noi può essere un problema immaginate che questo sia un ascensore entrare nell'ascensore premete il pulsante per salire ad un certo piano l'ascensore parte piano piano minimo minimo questo vi preoccupa oltre che darvi noia perché ci mettete più tempo per arrivare ad un certo allora è evidente che una situazione del genere se per determinate applicazioni può essere accettabile per altre situazioni è invece non accettabile e allora in qualche modo dobbiamo modificare la caratteristica elettromeccanica della macchina asincrona in modo tale che si abbia all'avviamento una coppia di spunto maggiore allora giusto per ricapitolare quello che abbiamo visto la volta scorsa vi ricordo che il valore di coppia massima cm e il valore di scorrimento s star per cui abbiamo il valore di cm è uguale è uguale a r primo con f diviso x primo con f ci sono duppi? ditemi qualche no a me mi fa piacere no a te è tutto chiaro allora visto che vi siete distratti un attimo mentre dicevo che il valore di coppia massima lo abbiamo quando s star è uguale a r primo con r diviso r x primo con r su questo fatto qui ve lo ricordate questo fatto? sì perfetto allora che cosa dobbiamo fare per ottenere un valore maggiore di coppia all'avviamento dobbiamo deformare la caratteristica elettromeccanica in modo tale che s star si porti di più verso valori di s maggiori possibilmente s uguale a 1 e quindi fare in modo se vogliamo una coppia cancello ora tutto questo se vogliamo una coppia all'avviamento tanto è tutto registrato non c'è problema se vogliamo una coppia all'avviamento più più intensa per s uguale a 1 ad esempio che fa così quindi ottenere quasi il valore massimo in questo punto qui coppia c s uguale a 1 che cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare in modo che s star che è uguale a r primo con r diviso x primo con r l'ho riscritto uguale 1 e se prima non era uguale a 1 perché era minore di 1 come facciamo a dobbiamo aumentare r primo con s prima era minore di 1 probabilmente perché la resistenza rotorica era aveva un valore più basso rispetto alla rattanza di dispersione rotorica quindi ora dobbiamo o progettare una macchina con resistenza degli avvolgimenti rotorici più più grande con valori di resistenza maggiori quindi o utilizzare un materiale diverso oppure ridurre la sezione compatibilmente con il calore che verrà prodotto negli avvolgimenti eccetera eccetera oppure ancora abbiamo un'altra possibilità una possibilità che non viene utilizzata spesso perché è una possibilità costosa è quella di utilizzare una macchina con rotore avvolto e ora torniamo su una vecchia diapositiva che abbiamo visto il problema è andare su ci siamo quasi questa qui è una fotografia di un vecchio rotore in cui il rotore è ottenuto con degli avvolgimenti non diciamo così non a barre queste qui non sono barre di rame o di alluminio sono avvolgimenti di rame e le tre fasi di questi avvolgimenti sono diciamo così riportate sugli anelli che sono galettati sull'asse così in questo modo faccio un disegno qui schematico come è fatto il rotore ci sa la fase una fase di rotore un'altra fase presumibilmente tre potrebbero ma qui sono tre sicuramente perché abbiamo tre anelli questo qui è il rotore non è lo statore lo immagino naturalmente collegato a stella perché altrimenti non potrei portare fuori le singole fasi sui tre anelli e questi qui sono disegno schematicamente i tre anelli di rame uno due e tre su questi tre anelli di rame poi ci saranno delle spazzole di carbone oppure di un altro materiale resistente che io disegno qui in modo anche in questo caso qui schematico me lo immagino sono spazzole di rame anzi le dovevo fare in colore nero così che fanno contatto su questi anelli e escono fuori disponibili fuori con tre morsetti uno due e tre ora su questi tre morsetti che posso fare posso inserire dei resistori resistori di tipo variabile così allora che cosa succede succede che quando il cursore di questi resistori variabili il resistore variabile è schematizzato in questo modo qui quando il cursore è spostato verso il basso ho inserito in serie agli avvolgimenti di rotore il massimo valore di resistenza che è il valore di resistenza presente ai morsetti estremi del resistore quando il cursore è spostato verso l'alto in pratica sto realizzando un vero e proprio cortocircuito su questi tre morsetti e quindi in pratica ho la possibilità di modificare il valore complessivo R di rotore totale tra il valore R' primo con R e il valore R' primo con R più R la chiamano addizionale brutto mettiamo R av perché mi spiego perché R di avviamento R di avviamento dove R di avviamento è appunto la resistenza complessiva presente da qui da qui la resistenza complessiva del resistore variabile dimmi Sì esattamente infatti quando ho cortocircuitato gli anelli mi trovo in questa condizione qui quando sto in cortocircuito sugli anelli cioè quando il cursore è spostato verso l'alto mi trovo nella condizione 1 quindi facciamo così condizione 1 quando invece il cursore è spostato tutto verso il basso cioè nella posizione 2 mi trovo nella condizione 2 chiaro? Allora questo mi dà la possibilità di modificare diciamo così in linea cioè durante il funzionamento della macchina di modificare la caratteristica elettromeccanica quindi trasformarla mentre sta funzionando qualcuno potrebbe dire ma io perché devo fare tutta questa operazione questa operazione non è ovviamente un'operazione a costo zero anzi un'operazione abbastanza costosa molto costosa perché prima cosa mi obbliga a realizzare un motore un motore fatto con avvolgimenti di rame e non a barre e quindi lo indebolisco cioè faccio un ruotore più delicato una cosa è fare un ruotore a gabbia tutto annegato e quindi nel ferro e quindi quasi indistruttibile un'altra cosa invece è fare degli avvolgimenti di rame con filo smaltato eccetera poi mi obbliga anche ad utilizzare degli anelli di rame quindi dei contatti striscianti e quindi questo implica anche che io questo tipo di motore non lo posso utilizzare in tutti gli ambienti possibili in ambienti dove ci può essere del gas oppure i vapori di benzino questo motore non può essere utilizzato perché ci sono i contatti striscianti che possono innescare dei processi distruttivi quindi poi c'è la manutenzione il costo maggiore proprio per realizzarlo ci sono tantissimi problemi perché dovrei fare quest'operazione per fare soltanto per avere un po' di coppia all'avviamento beh certo la coppia di avviamento è sicuramente un fatto importante però un'altra un altro dei vantaggi importanti è quello di migliorare il rendimento in questa zona qui allora cerchiamo di capire le due situazioni quali sono primo la prima situazione è quella di avere tutto il resistore inserito e quindi una coppia facciamo un po' di pulizia qui sopra una coppia all'avviamento quanto massima possibile provo a disegnare così qui abbiamo il valore di coppia massima potrebbe anche non essere proprio il massimo potrebbe potrebbe essere anche il valore di coppia massima sia qui per esempio oppure qui ma comunque sono riuscito ad aumentare la coppia di avviamento è chiaro e poi abbiamo una situazione di questo tipo qua ora immaginiamo di disegnare di nuovo la mia caratteristica la caratteristica del freno della coppia resistente diciamo sempre l'ipotesi che si tratta che si tratti di un ascensore questa qui allora qui che cosa avrei se mantengo se mantenessi se mantenessi il resistore inserito per intero la caratteristica di funzionamento sarebbe sempre questa giusto? e il punto a regime di funzionamento diventerebbe questo qui chiamiamolo P1 d'accordo? se invece dopo che la macchina ha proceduto al suo avviamento perché utilizzando la prima caratteristica la caratteristica 1 io gli ho dato una grande coppia di avviamento quindi la macchina si è avviata rapidamente se poi dopo che si è avviata io passo sulla caratteristica 2 il punto di funzionamento a regime diventerà questo che chiamo P2 che differenza c'è tra P1 e P2 dal punto di vista del rendimento e c'è una bella differenza perché il punto P1 lo ottengo con un'impedenza rotorica che è questa R' R' con R diviso S S1 più la X' con R più la resistenza di avviamento e quindi come vedete ho obbligato cioè ho realizzato un circuito rotorico molto resistivo e quindi ovviamente molto dissipativo il punto P2 invece avrà uno scorrimento S2 che sarà già più piccolo e la maglia rotorica a questo punto sarà R' con R diviso S2 poi avrò X' con R e poi siccome ho tolto la resistenza di avviamento avrò un circuito semplicemente come questo e quindi in questo caso qui sicuramente avrò una quantità di perdite joule di rotore che sono sicuramente più basse rispetto al primo caso ora vi ricordate quando vi ho detto che la potenza sincrona si divide in due parti una S P con S e l'altra 1 meno S P con S vi ricordate S P con S che cos'era? erano le perdite joule di rotore ci troviamo? e questa qui che cos'era? quella di sotto è la potenza meccanica allora dal punto di vista del rendimento visto che da una parte abbiamo la perdita di joule di rotore scusa la perdita di joule di rotore con la R minuscola le perdite di joule di rotore e dall'altra abbiamo la potenza meccanica a voi che cosa farebbe piacere di più? che sia più grande questa o che sia più grande questa? la loro somma è sempre uguale a P con S che sia sempre più grande questa e questa sia sempre più piccola quindi questo che cosa implica? che quanto più piccolo S tanto meglio è per noi allora se noi abbiamo un S1 che è maggiore di un S2 è evidente che dal punto di vista del rendimento a noi conviene spostare questo punto di funzionamento questo punto di funzionamento qui da qui spostarlo qui questo significa prendere perdite di rodore di rodore e spostarle da qui alla potenza meccanica quindi tagliare una fetta di perdite di rodore e spostare questa fetta di perdite di rodore sulla potenza meccanica che è per noi un fatto estremamente vantaggioso quindi abbiamo capito che un meccanismo utile per risolvere entrambi i problemi quali sono i due problemi uno è la coppia di avviamento che potrebbe essere debole e l'altro è il rendimento avere coppia di avviamento grande potrebbe significare avere rendimento piccolo a regime avere rendimento migliore a regime potrebbe significare avere una bassa coppia di avviamento punto allora a questo punto visto che potremmo immaginare di avere una macchina asincrona con gli anelli esterni dall'esterno abbiamo la possibilità di modificare la caratteristica elettromeccanica in modo che all'occorrenza scegliere l'una oppure l'altra ok per cui abbiamo anche visto che esistono varie possibilità non abbiamo la possibilità di modificare lo scorrimento massimo aggiungendo resistenza sugli avvolgimenti rotorici e contemporaneamente avere una coppia di avviamento sempre più grande purtroppo questo potrebbe significare avere anche un scorrimento a regime sempre più elevato e quindi un rendimento sempre peggiore a regime però possiamo anche fare delle operazioni di questo tipo qui per esempio queste che cosa sono sono tre anzi quattro caratteristiche elettromeccaniche chiamiamola come uno due anzi metterla qua due tre e quattro allora che cosa succede la prima caratteristica è quella che ci permette di avere la coppia massima all'avviamento e infatti se questa è la coppia resistente io ho una differenza all'avviamento tra coppia generata dalla macchina e coppia di avviamento molto importante che mi permette di ottenere un rapido avviamento ora non aspetto di arrivare al punto di funzionamento a regime ma già dopo che la macchina si è avviata tolgo un po' di resistenza sugli avvolgimenti rotorici quindi già quando sono arrivato alla velocità n'2 già cambio la caratteristica ma se cambio caratteristica togliendo un po' di resistenza sugli avvolgimenti rototici passo dalla caratteristica 1 alla caratteristica 2 e quindi rapidamente la coppia incrementa da questa qui chiamiamola c1 a c2 passo da qui a qui il motore genera una quantità di coppia ancora maggiore per cui tenderebbe tenderebbe e uso il condizionale a raggiungere questo punto di funzionamento ma ancora prima di raggiungerlo io tolgo ulteriore resistenza agli avvolgimenti rotorici e passo da questo punto qui a quest'altro ok e così via faccio questi passaggi anche da qui fino a questo fino alla fine a ottenere la caratteristica 4 in cui la resistenza di avviamento sul punto 4 è uguale a 0 cioè la resistenza che io aggiungo agli avvolgimenti rotorici è completamente esclusa d'accordo? e quindi alla fine il sistema si affesta su questo punto di funzionamento qui che è il punto di funzionamento a regime definitivo che ovviamente si ha per una velocità abbastanza prossima alla velocità di sincronismo perché n2 è abbastanza simile a n1 quindi vuol dire che lo scorrimento s2 è uno scorrimento abbastanza piccolo d'accordo? ci sono dubbi su questo? ora ci sono anche delle tecniche che sono diciamo così che sfruttano un po' i principi elettromagnetici della macchina per ottenere un risultato molto simile supponiamo di aver fatto un rotore a gabbia questa è la sezione trasversale di un rotore a gabbia dove tutti questi cerchietti che sto disegnando sono sono le barre del rotore quindi questa è una sezione trasversale una sezione che è perpendicolare all'asse e quindi questo qui è il rotore faccio un disegno più grande e disegno la barra così per evidenziare faccio uno zoom di questa zona qua ho fatto lo zoom di questa zona qui d'accordo? allora se faccio questa operazione io ho una caratteristica elettromeccanica potrei avere supponiamo di aver utilizzato dell'alluminio quindi un materiale abbastanza resistivo potrei avere una una caratteristica di questo tipo qui un attimo solo ora immaginiamo invece di fare una barra un po' più grande così se faccio una barra un po' più grande ottengo una resistenza molto più bassa e quindi potrei avere una caratteristica di questo tipo qui d'accordo? ora potrei approfittare di un fenomeno elettromagnetico che diciamo così si verifica al variare dello scorrimento tenete presente qui ho s uguale 1 e qui ho s uguale 0 allora vi ricordate che cos'è omega con r cosa abbiamo indicato con il simbolo omega con r con il simbolo omega con r abbiamo indicato la differenza tra per più uguale 1 tra le pulsazioni delle grandezze statoriche e la pulsazione meccanica omega con r rappresenta la pulsazione delle grandezze elettriche e magnetiche del rotore quindi se io questo qui è il rotore mi siedo qua sopra sono un osservatore e sto qui e misuro che ne so la frequenza o la pulsazione delle correnti rotoriche misuro omega con r all'avviamento omega con r è uguale proprio a omega perché il rotore è fermo e quindi è tutto fermo e la stessa cosa la pulsazione omega che sta sullo statore diventa uguale alla pulsazione che sta sul rotore e quindi omega vedete che omega con m è uguale a 0 e quindi omega con r diventa uguale a omega se invece mi trovo a s uguale a 0 che cosa succede che omega meno omega con m omega con m diventa uguale alla pulsazione di sincronismo diventano uguali tra di loro e quindi omega con r è uguale a 0 quindi avrò in questo caso qui omega con r uguale a 0 con naturalmente tutte le omega intermedie che ci possono essere se vado giusto in mezzo avrò una omega con r uguale a un mezzo di omega quindi la pulsazione omega con r durante durante la fase di avviamento pronto? c'è qualcuno in linea? allora quindi la pulsazione omega con r durante tutta la fase di avviamento passa da un valore grande di frequenza a un valore che è 0 giusto? ora dal punto di vista elettromagnetico le linee di flusso che attraversano lo statore e il traferro e entrano nel rotore è brutto dire che passano dalla statore al rotore le linee di flusso si richiudono è ovvio quindi anche dal rotore vanno allo statore questo non c'è dubbio però diciamo le linee di flusso che attraversano il traferro entrano tanto più in profondità quanto quanto minore è la pulsazione omega con r questo che ripeto questa frase perché mi deve rimanere quanto minore è omega con r tanto più in profondità entrano le linee di flusso quindi omega con r piccola che tende a zero le linee di flusso entrano in profondità nel ferro di rotore eseguite? per omega con r abbastanza alto invece le linee di flusso tendono a richiudersi tendono a richiudersi lungo la periferia del del rotore e non entrano in profondità quindi per omega con r prossimo a omega ottengo una situazione del genere d'accordo? allora ci ricordiamo le due situazioni giustificare questo fenomeno è abbastanza complesso è evidente richiederebbe affrontare lo studio delle equazioni di Maxwell quindi non è una cosa che ci proponiamo di fare al momento però per voi è sufficiente che vi ricordiate questa cosa qui quindi ricapitoliamo statore e rotore quando omega all'avviamento allora pronto all'avviamento le linee di flusso rimangono prossime al trafesso quando invece la macchina si è avviata cioè quando omega con r è basso le linee di flusso entrano più in profondità sfruttiamo questo fatto per creare una barra anziché formata da un'unica barra circolare bella grande ottenere una barra che fa così cioè che entra in profondità nel rotore poi gli vogliamo dare una forma diversa una forma a goccia oppure fare un'altra forma non è un problema dipende dal progetto allora che cosa succede succede che quando ci troviamo all'avviamento tutto il rame di questa barra e quindi tutta la corrente che circola in questa barra si concatena con le linee di flusso scusatemi non l'avviamento quando stiamo a regime quando stiamo a regime c'è per omega con r uguale a zero tutta la barra si concatena con le linee di flusso e quindi abbiamo una caratteristica che è questa sostanzialmente quando invece ci troviamo all'avviamento le linee di flusso tendono soprattutto a concatenarsi con questa parte di barra e quindi la corrente a addensarsi soprattutto nella parte più periferica della barra quindi la resistività effettiva di questa barra si è ridotta perché la corrente tende a circolare soprattutto in questa zona qui quindi abbiamo alla fine all'avviamento una resistività maggiore cioè abbiamo una caratteristica come se fosse questa a regime abbiamo una resistività più bassa e quindi abbiamo una caratteristica simile a questa naturalmente questo scambio di caratteristiche è uno scambio continuo cioè non è che io passo da una caratteristica all'altra con una discontinuità improvvisa come succedeva qui ma è uno scambio continuo per cui la caratteristica elettromeccanica della macchina non è né questa e né questa bensì è questa qui alla fine no deve alzare la voce allora ricapitoliamo in questo caso qui la barra si concatena con le linee di flusso solo parzialmente quindi le le correnti che circolano nella barra di rame si addensano soprattutto nella parte periferica della barra stessa e qui c'è poca corrente il risultato qual è? è che la corrente ovviamente trova più difficoltà a passare nella barra come si dice appunto in strada tecnico la resistività equivalente di quella barra è maggiore e quindi come se io avessi una barra con una resistività maggiore oppure la sezione equivalente di quella barra si è ridotta scegliete voi tanto il risultato è lo stesso la resistenza complessiva R a che cosa è uguale? alla resistività per la lunghezza della barra è diviso la sezione S ricordate? quindi per me alla fine che cosa succede? cambia R se la volete vedere come un incremento della questo è Rho un incremento della resistività o una riduzione della sezione fate voi a me non fa differenza comunque sia la resistenza complessiva di questa barra all'avviamento è maggiore d'accordo? quando la macchina è andata a regime cioè quando la pulsazione omega con R è diminuita le linee di flusso entrano più in profondità e quindi si concatenano con tutta la barra il risultato qual è? che la corrente si distribuisce in modo più uniforme all'interno della barra e quindi la resistenza complessiva alla fine è inferiore alla resistenza di avviamento è inferiore alla resistenza di regime ecco allora questo che vuol dire? vuol dire che sono riuscito sfruttando un fenomeno elettromagnetico a modificare la resistenza degli avvolgimenti rotorici e renderla funzione dello scorrimento è chiaro? e quindi ottenere una caratteristica elettromeccanica che è dal punto di vista è ottima sia dal punto di vista dell'avviamento e sia dal punto di vista del rendimento a posto? e poi alla fine è evidente che dal punto di vista della progettazione delle sue macchine qui ci possono essere diverse varianti per esempio potrei avere delle barre fatte così diciamo così a goccia per aumentare o diminuire questo fenomeno per ottenere delle tarature delle ottimizzazioni oppure potrei addirittura per motivi costruttivi realizzare una doppia barra fare due barre una più profonda e un'altra più in periferia in modo tale da ottenere lo stesso effetto alla fine però questo sistema qui è più facile anche da realizzare perché sono due gabbie messe una dentro l'altra va da sé che queste macchine cioè macchine a doppia gabbia oppure macchine ad addensamento le prime queste qui con la barra che entra in profondità si chiamano macchine ad addensamento oppure le macchine con doppia gabbia hanno ovviamente un costo maggiore rispetto alle macchine fatte con una gabbia sola e quindi non troverete mai una macchina di potenza limitata dell'ordine del kilowatt di 3 kilowatt o cose fatte ad addensamento oppure a doppia gabbia sono macchine sempre abbastanza grosse dove il costo complessivo della macchina giustifica anche il maggior costo per la realizzazione di un flutore più complesso giusto? ok e quindi abbiamo visto insomma anche questo fatto ci sono domande? ok l'ultima cosa che c'è da aggiungere almeno per il momento poi mano a mano ci verranno in mente altre precisazioni da fare le vedremo allora abbiamo disegnato la caratteristica elettromeccanica e l'abbiamo disegnata nel primo quadrante abbiamo la coppia in funzione di S questa volta coppia in funzione di S l'abbiamo disegnata nel primo quadrante e soprattutto nel primo quadrante e l'abbiamo disegnata anche nel terzo quadrante è opportuno in qualche modo dividere anche con due assi verticali che passano per S uguale 1 abbiamo visto che questo punto qui rappresenta il rotore fermo cioè omega con M uguale a 0 omega con F uguale omega e basta durante il funzionamento nel primo quadrante e per S primo quadrante e per S compreso tra 0 e 1 la macchina esprime una coppia ed una velocità angolare con lo stesso segno quindi avremo speriamo che questa qui sia il nostro motore questo è l'asse del motore avremo una coppia C e una velocità angolare omega con M e in base alla convenzione che abbiamo stabilito che ne so coppia oraria positiva così come si stabiliscono le convenzioni per le tensioni su una maglia elettrica quindi se la coppia C è positiva C positiva avremo anche una omega positiva per cui la potenza meccanica P assumiamo essere positiva che è prodotto tra la coppia e la velocità angolare meccanica omega con M contemporaneamente osserviamo che durante questa fase qui avremo una potenza elettrica anch'essa che entra nella macchina elettrica e se abbiamo assunto come positiva una potenza elettrica che entra nella macchina elettrica che stiamo utilizzando la convenzione del utilizzatore allora mettiamo un segno più anche qui vi ricordo queste qui sono tutti elementi di convenzione che stiamo utilizzando quindi assumiamo come convenzione l'utilizzatore se usiamo questa convenzione allora anche la potenza elettrica è possibile in questa funzione qui quindi abbiamo una potenza elettrica che entra nel motore e una potenza meccanica che esce dal motore quindi si dice che questa macchina funziona effettivamente da motore andiamo a vedere invece che cosa succede per valori di s negativi allora per s negativi ci troviamo nel terzo quadrante e abbiamo s minore di zero cioè ci troviamo qui per indendereci in questa zona qua e allora se manteniamo le stesse convenzioni di prima cioè per noi è positiva una coppia oraria c positiva omega positiva così e osserviamo che la coppia è diventata negativa quindi abbiamo una c meno e la velocità angolare pure perché abbiamo un s negativo quindi ricordo che s è uguale a omega meno omega con m di is omega quindi per avere un s negativo di che omega con m è negativo e quindi omega con m è negativo ci troviamo o ho detto un assuridaggio s no no di ok quindi abbiamo una omega con m come ci dobbiamo mettere? positivo o negativo? no, la convenzione era questa allora, omega con m è positiva se gira in senso orario qui, in questo punto qui in questa zona qui era oraria e girava in un verso in questa zona qui che fa? no non è negativa omega non è negativa omega è maggiore questo qui per essere negativo vuol dire che omega e visto che ogni tanto che omega con m deve essere maggiore di omega quindi l'omega con m è sempre positiva è maggiore di omega ma è sempre positiva quindi omega con m è positiva d'accordo? esattamente la potenza no, la coppia è negativa perché è più negativa di così sta giù sta sotto è negativa la coppia esattamente no, chi? la coppia va in senso di antiorario esattamente però la potenza meccanica qui che ci devo mettere il segno più col segno meno pronto? ci devo mettere il segno meno perché meno per più fa meno ok quindi la potenza meccanica va in senso opposto alla convenzione che avevamo stabilito prima aspetta aspetta la potenza elettrica in questo caso qui che cosa abbiamo? abbiamo sempre se riusciamo a superare le perdite a vuoto abbiamo una potenza siccome la forza elettronotrice indotta a questo punto si è invertita allora a questo punto abbiamo una potenza elettrica che potrebbe potrebbe se è sufficientemente grande la potenza meccanica essere negativa P elettrica segno meno quindi in questo caso qui abbiamo che entra potenza meccanica nella macchina ci metto una S asincrona per dire questa macchina asincrona entra potenza meccanica nella macchina asincrona ed esce potenza elettrica per cui qui si dice che funziona da generatore ok io perché ho detto prima di andare avanti a vedere l'altro funzionamento che è quello da prima torniamo un attimo sul diagramma circolare permettetemi di fare questo salto stiamo 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 più o meno dove stagliamo circolare completo era questo ci siete? posso dire un'altra cosa? abbiamo visto che prima in questa zona qua che ora Marco con tanti puntini però voi mi seguite qui ci sta S uguale infinito allora fino a questo punto qui S uguale 1 abbiamo visto che da S uguale a 0 fino a S uguale a 1 funziona da motore poi abbiamo visto il funzionamento da generatore il funzionamento da generatore è evidente che la componente icona la componente attiva della icona per avere il funzionamento da generatore dobbiamo avere una potenza elettrica col segno meno giusto? e quindi questa qui è uguale 3 V per I coseno di fi quindi questo è uguale a 3 V per I con A giusto? quindi vuol dire che questo pezzo che è I con A ah scusatemi questo pezzo che è I con A deve diventare negativo e quindi deve passare qua sotto deve andare sull'asse negativo per farla diventare negativa siccome questo qui è S uguale a 0 vuol dire che non è proprio sufficiente avere un S negativo piccolo per esempio se io ho un S negativo piccolo vedete il puntino me lo sto facendo un puntino là sotto io lo so che col mouse certe volte è difficile andarlo a vedere qui qua c'è un S negativo ma non è sufficiente a fare in modo che Icon A sia diventata negativa perché ci sono le perdite nel ferro le perdite a vuoto allora qui ho un S abbastanza negativo tale per cui la E è diventata uguale a 0 e per cui sono riuscito in qualche modo a zerare le perdite a vuoto e finalmente se arrivo in questa zona qui per essere negativi ma abbastanza negativi eh sono riuscito ad invertire la Icon A quindi qui ho una Icon A col segno meno è negativo chiaro? allora in questa zona qui il funzionamento è da generatore però per arrivare a funzionare da generatore devo almeno arrivare su questo punto qui allora torniamo sul diagramma sulla caratteristica elettromeccanica e dov'è 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 qui si dice questa zona qui il funzionamento del generatore d'accordo? ora rimane l'ultima questa zona qui questo piano qua cioè piano per S maggiore di 1 d'accordo? che succede lì? e beh allora questo siamo sempre nel primo quadrante primo quadrante S maggiore di 1 motore l'asse coppia C omega con M ecc ebbene in questo caso qui sia la coppia che omega con M come è la situazione? allora in questo caso qui abbiamo una coppia C che è sempre positiva e questa volta però omega com'è? è negativa è giusto? perché per S maggiore di 1 il giudatore sta girando tutto al contrario mo' si che sta girando tutto al contrario quindi abbiamo una potenza meccanica che entra nell'asse P entra nell'asse però nulla è successo per quanto riguarda né la componente attiva della corrente I assorbita dalla macchina dalla rete né per la forza elettronica indotta né per la tensione V nient'altro è successo dal lato elettrico per cui la potenza elettrica P rimane sempre positiva quindi entrano tutte e due nel motore e quindi tutte e due si sommano e il motore sarà costretto a dissipare una potenza P dissipata che è uguale alla potenza elettrica più la potenza meccanica e quindi vi lascio immaginare povero motore che cosa deve sopportare e vi lascio anche immaginare che questa situazione qui non è quindi quindi qui funziona da freno si dice il motore funziona da freno perché il freno è un oggetto totalmente dissipativo i freni delle automobili come sono dissipativi a meno che non si tratti di una bella automobile elettrica in cui la frenatura sia come si dice a recupero per cui viene recuperata l'energia in quel caso lì il motore viene fatto funzionare da generatore in questo caso qui viene fatto funzionare da freno e quindi non è una situazione particolarmente favorevole per nessuno né per il motore né per noi andiamo a vedere nel diagramma circolare questa situazione dove si trova nel diagramma circolare si trova qui cancello questa zona qua perché così faccio un po' di si trova qui il freno fino ovviamente a s uguale infinito ma è evidente che questa zona qua non la vorrei manco disegnare perché non ci si arriva nemmeno insomma s uguale infinito faccio un tratteggio fino a un certo punto poi mi fermo perché non ha senso andare oltre ok quindi abbiamo visto diciamo così i tre funzionamenti del motore qua ci sta il diagramma circolare completo per cui anche qui si vedeva abbastanza bene ci ci qui 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 ci